Gela dovrà abbandonare il sogno di entrare nell'area metropolitana di Catania che ricordiamo per portarla avanti ci sono volute due delibere consigliari e soprattutto l'intervento della popolazione con consultazione referendaria confermativa. Che cosa è accaduto ieri a Lars? Sono stati bocciati con voto segreto gli atti con i quali si ridisegnavano i confini territoriali dell'ex provincia, i comitati gelesi non ci stanno. Liliana Bellardita di Gelensis Populus. Dal nostro punto di vista si è creato una sorta di braccio di ferro tra l'assemblea regionale e la giunta. Mi pare che per partito preso l'assemblea regionale bocci tutto quello che giunge dalla giunta. La motivazione sostanzialmente sta nel fatto che la prima commissione e in questo l'assemblea poi ha sposato questo pensiero ha ritenuto che questi disegni di legge dovessero essere accompagnati da una relazione tecnica che in realtà spiegasse nello specifico quello che era la regolazione dei rapporti di natura patrimoniale, del personale, i rapporti tra dare e avere tra tutti gli enti che erano interessati da questo passaggio. In assenza di questa relazione tecnica la prima commissione così come anche ieri pomeriggio l'assemblea regionale ha ritenuto che questo passaggio fosse una sorta di salto nel buio. Bene e adesso non ci potranno essere delle soluzioni alternative e soprattutto abbiamo notato la presenza assidua nei comuni interessati del sindaco Bianco e oggi il silenzio invece è assordante. Oggi il silenzio è assordante perché io non sottolineo sempre che qualunque tipo di impugnativa governativa relativamente alla legge 15 del 2015 ha visto come promotore anche se un promotore tra virgolette occulto lanci nazionale per cui qualunque tipo di impugnazione da parte del governo nazionale nei confronti della nostra legge e qualunque battuta d'arresto si è avuta a seguito dell'interessamento del lanci nazionale. Non scordiamo che Bianco è la seconda carica più importante nel lanci nazionale. Certamente ci saremmo aspettati un suo interessamento maggiore visto l'interessamento che lui aveva manifestato per avere la riaffermazione del principio della coincidenza del sindaco metropolitano con la figura dei sindaci che reggevano le tre comunità, cioè Palermo, Messina e Catania e all'indomani dell'ottenimento di questo, Bianco è come se si fosse dissolto.